Con Fartigianato lancia un allarme, in un anno chiuse 345 partite IVA serve l'aiuto dei comuni. Oltre 4 milioni per l'edilizia scolastica in provincia, 3 le scuole interessate agli interventi. Federal Berghie e il Forum per i movimenti dell'acqua contro la gestione del bonus Covid di Gaia. Valorizzazione del commercio, le associazioni di categoria chiedono al Comune di Massa un tavolo di confronto. Tutto per Massa, continua l'adesione al progetto dell'amministrazione sulla pulizia degli arenili. Marcello Lippi, ospite dell'edizione primaverile al Caffè della Versigliana. Buonasera, buon inizio settimana a tutti. Eccoci pronti per una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3. Prima di passare alla lettura delle notizie diamo conto dei dati relativi al Covid-19. Sono 245 nuovi casi di positività nella giornata di oggi in Toscana e sono 48 nuovi casi nell'azienda USL Toscana Nord-Ovest di cui 3 nelle Apuane e tutti a Massa. In Lunigiana sono 3 nuovi casi, uno ad Aulla, uno a Filattiera, uno a Licciana Nardi. Si registra inoltre un decesso di un uomo di 88 anni nell'ambito territoriale di Massa Carrara. Le ricoverate all'ospedale Apuane sono 29, di cui 4 in terapia intensiva. Sono stati effettuati nelle Apuane 211 tamponi molecolari e 0 test rapidi, mentre in Lunigiana 54 tamponi molecolari e 0 test rapidi. Nelle Apuane le vaccinazioni complessivamente effettuate sono 53.566 per le prime dosi e 25.951 le seconde dosi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è pari al 37,6%. Mentre per la Lunigiana le vaccinazioni complessivamente effettuate sono 14.431 prime dosi e 10.742 le seconde dosi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino è del 37,9%. E già alle 13 di ieri sono stati più di 200 i cittadini over 60 che hanno partecipato all'Open Day con accesso libero senza prenotazione, organizzato sul territorio dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest nei centri vaccinali di Carrara, Pontedera e Venturina. In queste strutture sono state infatti messe a disposizione delle dose aggiuntive di vaccino AstraZeneca. C'è un allarme di confartigianato Massa Carrara. In un anno chiuse 345.000 partite IVA. L'associazione lancia un allarme e una serie di proposte alle amministrazioni locali per aiutare le imprese ad uscire dalla crisi. Sentiamo il servizio di Ricci Spadoni. Esenzione dell'Imu, sospensione dell'Atari, rivedere i tributi minori e la disciplina ad EOR, ridurre gli oneri di urbanizzazione e pagare con puntualità i fornitori. Sono queste le misure urgenti che il confartigianato Massa Carrara ha indicato alle amministrazioni comunali per aiutare le imprese ad uscire dalla crisi. Come hanno spiegato Sergio Chiriconi, presidente di Confartigianato, e il direttore Gabriele Mascardi, secondo il Centro Studi Nazionale, in un anno hanno chiuso 345.000 partite IVA e altre 300.000 sono a rischio. Le misure, secondo Chiriconi e Mascardi, devono essere Esenzione dell'Imu 2021 per tutte le attività produttive e non solo per quelle specificamente individuate nella legge di bilancio 2021, oppure una rimodulazione dell'imposta anche per la prossima annualità. La sospensione dell'Atari, oppure anche in questo caso, una rimodulazione con previsione di percentuali maggiori riduzioni per gli operatori, che producendo rifiuti speciali abbiano contatti con le imprese di smaltimento private. Esenzione o rimodulazione di tributi minori come TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità. Revisione della disciplina d'Eur, in particolare, si chiede di raddoppiare gli spazi di suolo pubblico per locali e ristoranti nel periodo estivo, con esenzione del pagamento della TOSAP e l'eliminazione di un ulteriore onere anche burocratico per l'imprenditore ed esercenti. Azzeramento o sensibile riduzione degli onere di urbanizzazione per favorire l'avviamento di cantieri privati fino alla fine dell'anno. Pagamento puntuale dei fornitori. Per molte imprese che in questo momento non possono contare sui pagamenti dei privati, infatti, è molto importante la tempestività da parte della committenza pubblica. I settori produttivi più interessati dalla crisi, concludono il Presidente e il Direttore di Confartigianato, sono il tessile, l'abbigliamento, la stampa, i mobili e l'edilizia. Nel settore dei servizi, invece, si distinguono le difficoltà della ristorazione, degli alloggi e alberghi, del commercio delle auto e altri comparti, come il commercio al dettaglio, il noleggio, i viaggi, il gioco e lo sport. Settori in crisi che ora hanno bisogno più che mai di una mano, anche dai comuni. Il consigliere comunale Luca Guadagnucci, ex leghista, è entrato a far parte del gruppo consigliare di Forza Italia di Massa. Oggi in Consiglio Comunale i forzisti vantano 944 voti totali e con ciò aumenta la loro responsabilità. Notevole è l'entusiasmo del Vice Coordinatore Provinciale Stefano Benedetti. Per lui l'arrivo dei guadagnucci corrisponde ad un arricchimento e un valore aggiunto, soprattutto in termini di consensi. La Lega Massa Carrara prende atto del passaggio del consigliere Agli Azzurri. Nonostante ciò ribadisce il proprio peso politico a sostegno della maggioranza. 4 milioni e 463 mila euro per l'edilizia scolastica a disposizione della provincia di Massa Carrara. Sono tre le scuole interessate agli interventi, il Liceo Rossi di Massa, il Liceo di Francavilla e Lunigiana e il Liceo Classico di Aulla. Vediamo. Nuovo finanziamento a disposizione della provincia di Massa Carrara per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Il Ministero dell'Istruzione ha infatti provveduto ad assegnare 4 milioni e 436 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico, ma anche di nuova costruzione, messe in sicurezza e cablaggio. La somma è stata attribuita con un decreto del 10 marzo 2021, che ha suddiviso lo stanziamento di 1 miliardo e 125 milioni a favore delle province e delle città metropolitane per il periodo 2021-2024. Gli interventi da trasmettere al Ministero sono stati approvati con un decreto del Presidente della provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti. È il secondo finanziamento di una certa consistenza che ci vediamo assegnare nell'arco di qualche mese, ha dichiarato il Presidente, ed anche questa volta avevamo tempi ristrettissimi, una cinquantina dei giorni, per presentare l'elenco. Una corsa contro il tempo che siamo riusciti a rispettare grazie al lavoro dei nostri uffici. A inizio marzo, nelle casse della provincia, erano infatti arrivate 2 milioni e 295 mila euro per quattro interventi all'ITMEU, liceo Pascoli a Massa, liceo Montessore di Marina di Carrara e l'Istituto TACA di Carrara. L'importo complessivo che siamo riusciti a catalizzare sulle scuole del nostro territorio per adeguarle e valorizzarle, ha continuato il Presidente della provincia, tra preno trennale e questi ultimi finanziamenti, è di circa 26 milioni di euro. Sono tra gli interventi candidati risistemare complessivamente il liceo Rossi di Massa, ultimare l'ultimo loto dell'iceo di Francavilla e Lunigiana e operare sull'iceo classico di Aulla. Per il liceo classico Rossi-Massa sono previsti 2 milioni e 785 mila euro per l'adeguamento sismico dell'Istituto della Palestra, la manutenzione straordinaria e l'adeguamento impianti. Per il liceo da Vinci, Francavilla e Lunigiana sono invece previsti 1 milione e 200 mila euro per la realizzazione di nuovi spazi didattici all'interno della struttura antisismica esistente. Infine, per il liceo classico Aulla sono previsti 450 mila e 970 euro per la manutenzione straordinaria e il rifacimento della copertura con l'intervento strutturale. Per ulteriori eventuali risorse aggiuntive sono stati invece candidati l'Istituto Galilei Marconi di Carrara e l'Ipsia Barsanti-Massa. Oltre al danno anche la beffa, Federalberghi e il Forum dei Movimenti per l'Acqua alzano la voce nei confronti della gestione del bonus Covid di Gaia. Se ne è occupato Rocco Lanza. In Toscana le tariffe del servizio idrico sono tra le più alte d'Italia. È questa la linea di Federalberghi a Puo Versigliese nei confronti di Gaia, una società che, secondo la federazione, continua a creare problemi anziché risolverli a non effettuare interventi nella depurazione. A tutto questo si è aggiunto il Covid, che da febbraio 2020 ha bloccato quasi completamente l'attività delle strutture alberghiere turistiche. Molte imprese hanno chiuso e molte altre sono prossime alla stessa sorte. Oltre al danno anche la beffa, dichiarano la Federalberghi. Nei giorni scorsi le associazioni di categorie economiche utenti di Gaia hanno ricevuto dalla società una comunicazione per informare che 4.400 sono le utenze commerciali che riceveranno il bonus automatico attivo nella prossima fatturazione di circa 35 euro nella bolletta dell'acqua. Forse nella convenzione che un contributo emergenza Covid di 35 euro possa aiutare a superare le difficoltà dovute alla pandemia. In aggiunta è anche il Forum dei Movimenti per l'Acqua ad alzare la voce. Secondo loro, infatti, il gestore idrico toscano nel 2020 ha inserito costi notevoli in più per tutti gli utenti. A questo proposito, Federalberghi e il Forum invitano i sindaci del territorio ad assumere le iniziative necessarie per un cambiamento in modo tale da risolvere questa importante questione. Nuovo regolamento per la valorizzazione del commercio. Le associazioni di categoria chiedono urgentemente un tavolo di confronto al Comune di Massa. Un tavolo di concentrazione che veda l'amministrazione comunale di Massa ad aprirsi ad un percorso condiviso con le associazioni di categoria in modo tale da poter discutere su questioni ancora irrisolte in merito al nuovo regolamento per la valorizzazione dei luoghi di commercio nel centro storico e nel centro città. È questa la richiesta congiunta e urgente che arriva da parte di Conf Commercio, Conf Esercenti e Conf Artigianato rivolta al sindaco Francesco Persiani, all'assessore alle attività produttive Paolo Balloni. Prendiamo atto con soddisfazione, si legge in una nota firma delle tre associazioni di categoria della proroga concessa dall'amministrazione comunale come da noi richiesto per quanto riguarda la questione dell'adeguamento delle vetrine. Ma il tema era e resta complesso, con tanti aspetti che ancora restano insoluti. Per questo siamo adesso a chiedere l'apertura di un tavolo di concentrazione che coinvolga tutte le sigle in modo tale da arrivare ad una conclusione che sia soddisfacente per tutte le parti. Queste associazioni stanno seguendo da tempo e con la massima attenzione l'evolversi del nuovo regolamento, pienamente consapevoli dell'importanza che questo strumento ha e avrà per il futuro delle imprese, soprattutto in materia di arredo e decoro. Poche settimane fa era stato protocollato all'attenzione dell'amministrazione un corposo documento contenente tutte le loro osservazioni. L'impegno da parte del Comune non è mancato, hanno fatto sapere, ma ci sono ancora diversi e delicati aspetti che vanno risolti. Luana Mencarelli, consigliere di massa del Movimento 5 Stelle, è tornata a parlare dello sportello di ascolto e prima accoglienza dei soggetti a rischio di usura. Come si legge in una nota, è dal 20 novembre scorso che la Mencarelli ha presentato una mozione per l'istituzione dello sportello. La sede inizialmente scelta era Palazzo Comunale, la Casa dei Cittadini. Come spiega il consigliere comunale, inizialmente la mozione era stata portata alla discussione in commissione che non gli aveva riconosciuto una predisposizione favorevole, ma invece di proseguire l'usuale percorso e approdare in consiglio era sparita. Dopo quattro mesi era stato risposto alla Mencarelli che sarebbe stata recuperata perché non si sapeva dove si fosse arenata. Sono già stati convocati tre consigli comunali, si legge nella nota, ma nella mia mozione, pur tornata in commissione dove non ha riscosso un voto favorevole della maggioranza, è nuovamente sparita, soppiantata da mozioni tutte più recenti. Adesso la Mencarelli aspetta risposte. Tutto per massa continua l'adesione al progetto portato avanti dall'amministrazione sulla pulizia degli arenili. Sentiremo nelle interviste Francesco Mangiaracina di Tutto per massa e Paolo Balloni, assessore all'ambiente. Come associazione di promozione sociale Tutto per massa siamo da sempre impegnati in iniziative nel sociale, nell'aiuto, nel sostegno ai nostri concittadini in difficoltà. Oggi invece abbiamo fatto qualcosa di diverso per noi, abbiamo adedito volentieri, molto volentieri, all'appello lanciato dall'amministrazione comunale e abbiamo anche noi occupato una data organizzando questa mattinata di volontariato a tematica ambientale. Siamo stati dunque impegnati con oltre 20 volontari dalle 9 a mezzogiorno nella pulizia del tratto di spiaggia antistante dell'Istituto Alberghiero. È stata una bella mattinata, è stato per noi un piacere avere il sostegno di diversi turisti che si sono trovati qui casualmente hanno voluto anche loro aderire alla nostra iniziativa ed è stato bello vedere che anche qualche concittadino che ha scoperto di questa iniziativa nel web o sui giornali locali si è presentato per indossare dei guanti, prendere un sacco e anche loro per contribuire a dare una mano a pulire questo tratto di spiaggia. Ringraziamo l'assessore Paolo Valloni, l'assessore all'ambiente e l'amministrazione per aver dato il patrocino, per aver patrocinato la nostra iniziativa e ringraziamo anche Asmio per averci fornito tutto l'occorrente appunto guanti, cappellini e sacchi per riuscire anche noi a contribuire a rendere migliore il nostro tratto di mare, a pulire il nostro tratto di spiaggia e a fare qualcosa di buono per l'ambiente. Un grande grazie all'associazione Tutto per Massa che si è unita a questo progetto che l'amministrazione sta portando avanti di diverse giornate della pulizia dell'arenile non dato in concessione del fiume, delle zone di montagna e delle zone di mare. Grazie anche nell'occasione a tutte le altre associazioni che hanno fatto le giornate passate e faranno le giornate che sono in programma nelle prossime settimane. Una giornata anche questa che ha dato i suoi frutti, sono stati raccolte diversi quintali di rifiuti che purtroppo vengono abbandonati nelle spiagge di tutti i generi, antropici e naturali. Abbiamo anche, grazie alla collaborazione di Asmio, accantonato anche del materiale ligno che verrà smaltito. Quindi l'attenzione all'ambiente è sempre massima, la cura è massima, anche l'amministrazione si attiva indipendentemente da queste giornate per fare quello che si può fare per mantenere pulito l'arenile, con la collaborazione anche dei gestori degli stabilimenti balneari. Però in questo tema le forze e le energie non sono mai abbastanza, quindi queste giornate si rivelano sempre più indispensabili. Rita Galeazzi, capogruppo Cambiamo Comano e Pierluigi Bassignani, coordinatore Forza Italia Signores, sono tornati a parlare della situazione di Comano e dello stato in cui si trova la strada provinciale per il Lagastrello. La strada è infatti occupata da una frana e al momento pare non si è installata la segnaletica necessaria. Come spiegano i due in una nota, la popolazione è esasperata e le risposte delle istituzioni non arrivano. Per questo hanno invitato gli enti competenti a riunirsi con urgenza per trovare soluzioni del caso. Quando il sindaco di Comano parla di cooperative di comunità e sviluppo del territorio, si legge in una nota, dovrebbe ricordarsi che senza manutenzione, cura e attenzione il territorio non ha futuro. Proprio in occasione della giornata europea dei parchi, come oggi, 24 maggio, e della giornata mondiale della biodiversità, istituita per il 22 maggio, indetta dalle Nazioni Unite, Lega Ambiente ha ricordato l'appello lanciato il 16 maggio scorso per salvare le ultime praterie della lunigiana. I prati di Logarghena a Filattiera e i prati di Camporaghena a Comano stanno imboscandosi velocemente e perciò si stanno estinguendo. Il loro declino è strettamente legato all'abbandono della pratica del pascolo e dello sfalcio. Lega Ambiente si è rivolta dunque al Presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, oltre che ai sindaci di Filattiera e Comano, e al Presidente dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, perché intervengano con urgenza per salvare le praterie della lunigiana e lo ha fatto anche attraverso una petizione popolare online. Finisce alle 22 di questa sera il codice giallo per le precipitazioni che stanno interessando un po' tutta la Toscana centro-settentrionale e che si sono intensificate nel pomeriggio di oggi. In base al bollettino emesso dalla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, la vigilanza continua ad essere valida per zone centro-settentrionali della Toscana, la costa e l'interno, soprattutto la Versiglia e le Apuane. In questi ultimi giorni è venuto a mancare l'ingegnere Cesare Tinelli. Italia Nostra lo ha ricordato come professionista serio e molto apprezzato. Cesare, con la consorte, la studiosa dell'arte Enrica Frediani, era socio di Italia Nostra da anni e da molto tempo frequentava la sezione degli incontri e delle gite culturali. In varie occasioni aveva collaborato sulle questioni tecniche riguardanti i problemi ambientali e in particolari il reticolo idrogeologico, la messa in sicurezza del canal magro Fescione, sistemato molti anni fa insieme all'ingegnere idraulico Carlo Milani. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di Romagnano. Italia Nostra invia alla moglie, alla famiglia, le più sentite condoglianze. Anche la redazione di Antenna 3 si unisce alle condoglianze riservate alla famiglia. L'azienda USL Toscana Nord-Ovest ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa della dottoressa Silvia Compagnucci, ortottista e assistente in oftalmologia. Dai colleghi è stata ricordata come un esempio impeccabile sul lavoro e intransigente nelle battaglie combattute, premurosa con tutti ma con quelle sollecitudini piene di discrezione che non risultavano mai invadenti. I funerali hanno avuto luogo questo pomeriggio alle 16.15 nella chiesa Santa Maria della Rosa a Montignoso. Anche la redazione di Antenna 3 si unisce alle condoglianze. A causa del maltempo è stata rinviata a mercoledì 26 maggio alle 9.30 la cerimonia per ricordare le stragi di Capaci e di Via D'Amelio in programma per lunedì 24 maggio, quindi per oggi naturalmente le condizioni del tempo non lo hanno permesso. La commemorazione che si terrà sempre presso il Parco Falcone Borsellino di Marina di Carrara è promossa dall'amministrazione comunale per ricordare Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e le donne e gli uomini delle loro scorte. L'Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile farmacistivolontari.it costituisce una sezione anche in Toscana. Ha sede a Pisa e opera anche a Massa Carrara mettendo a disposizione i suoi volontari nell'ambito della campagna vaccinale regionale. Negli hub e strutture vaccinali toscane, infatti, sono adesso operativi anche un centinaio di farmacisti a Massa Carrara sono circa 20, reduci da un recentissimo corso specifico abilitante. L'Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile è nata nel 2009 dopo il terremoto dell'Aquila promossa dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani sulla base dell'esperienza svolta dai farmacisti volontari durante le operazioni di base del soccorso di Abruzzo. L'Ordine dei Farmacisti Provinciale intende esprimere un ringraziamento ai tanti professionisti che si stanno mettendo a disposizione e spera in imminenti ulteriori attività per la neonata sezione anche il dotarsi di un camper da destinare a molteplici interventi sul territorio apuano. C'è la pubblicità ma torniamo in studio perché ci sono anche altre interessanti notizie. Le scelte di Puntelli Tour Expo Edition 46 artisti in mostra dei 90 scelti per l'esposizione universale a Dubai Abu Dhabi. Palazzo Ducale di Massa fino al 13 giugno 2021 La mostra è visitabile dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 È gradita la prenotazione con sms o whatsapp al 393 1215 542 Al termine della vita avremo cura dell'ultimo viaggio con esperienza, dignità e rispetto Onoranze funebri salvatori 340-188-6511 Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti. Grazie a tutti. È di Alessandra Cenci Campani il prossimo servizio che riguarda calcio a tutto tondo. Lo scorso venerdì è stato ospite dell'edizione primaverile del Caffè della Versiliana, l'ex CT della Nazionale Italiana di Calcio, Marcello Lippi. Calcio a tutto tondo è stato l'argomento del secondo incontro dell'edizione primaverile del Caffè della Versiliana, che si è svolto venerdì 21 maggio al Teatro Comunale di Pietrasanta recitamente ristrutturato, in attesa della stagione estiva che prenderà il via domenica 10 luglio nel consueto Caffè del Parco della Versiliana. Grande attesa per questo incontro perché l'ospite era Marcello Lippi, un uomo che nel calcio è stato tutto e che ha vinto tutto, che il Times ha annoverato tra i più grandi allenatori nella storia del calcio italiano e che ha allenato molti dei giocatori più avventuosi del mondo, da Zidane a Treseguet, da Baggio a Ronaldo il Fenomeno e poi Buffon, del Piero, Totti e tanti altri. ...sintenti che intanto cinque volte campione d'Italia con la Juventus, vincitore della Coppa del Mondo ovviamente come commissario tecnico della Nazionale 2006, dopo la quale è diventato il primo allenatore nella storia del calcio ad aver vinto le massime competizioni internazionali. Voglio ricordare, 31 partite constitutive senza sconfitte. Sul palco si sono succeduti alcuni amici del commissario tecnico più famoso d'Italia. Non poteva mancare l'allenatore Massimiliano Maddaloni, inseparabile braccio destro di Lippi nelle nazionali italiana e cinese, il giocatore Nicola Le Grottaglie che ha ricordato con molto affetto alcuni episodi di quando Marcello Lippi era il suo mister alla Juventus. E poi ancora il giornalista Filippo Grassia, voce della Moviola alla radio, l'ex giocatore ed attuale direttore sportivo del Pietrasanta Calcio Ciro Capuano ed il presidente del Pietrasanta Calcio Serafino Coluccini. Un pomeriggio di piacevole intrattenimento con un pubblico attento e partecipe. Molti gli argomenti trattati, dagli aneddoti da quando Lippi era allenatore a quando era CT della Nazionale Italiana. E poi ancora il rapporto con la famiglia Agnelli. Lippi, lo ricordiamo, è stato allenatore della Juventus per otto anni, il periodo trascorso in Cina per allenare la Nazionale Cinese, l'andamento e l'attuale campionato, gli europei che stanno per cominciare. E poi uno sguardo al centro sportivo polivalente di Viareggio nel quartiere Marco Polo, che è diventato un polo sportivo di eccellenza che conta una superficie di oltre 40.000 metri quadrati, attrezzato per molte discipline sportive. Con Capuano e Coluccini si è parlato naturalmente anche del Pietrasanta Calcio, importante realtà del territorio lucchese. Mi dispiace che qualcuno dovrà rimanere fuori. Ci sono delle squadre che hanno fatto le ultime partite molto bene, se ne vedi Napoli, se ne vedi il Milan, la Juventus anche se ne ha dimostrato, dopo la partita con il Milan si è ripresa, insomma qualcuno deve rimanere fuori. Vediamo chi toccherà la cosa. Il Milan rischia di giocarsi tutto il campionato, cioè il primo a ciascuno. Il Milan, il Napoli, il Milan, la Juventus, ma tutte e tre sono, non lo so. Se vincono tutte e tre, rimane fuori la Juventus. Vediamo che succederà, come si fa. Certo. E da ex Atalantino comunque pensa che l'Atalantino... Io sono anche ex Juventino. Certo, 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 certo. Lo so, lo so, però in questa sfida tra Milano e Atalanta, dicevo, si giocherà tutto per il secondo posto l'Atalanta. E l'Atalanta ha la possibilità di arrivare in seconda in Serie A, non credo che, poi dopo la delusione di Sè, insomma, è dura, è dura. L'incontro si è svolto in totale sicurezza, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, con posti in teatro che per forza di cose sono stati ridotti a 101. E adesso vediamo a che avete fatto i vostri auguri. Un corso di formazione gratuito è stato finalizzato all'inserimento di giovani con competenze digitali e di e-commerce all'interno delle filiere toscane. Questo è il progetto promosso da CESCOT, Toscana Nord, agenzia formativa di confesercenti. Il corso in programma da giugno a ottobre 2021 mira a offrire ai ragazzi e ragazze sbocchi occupazionali in società di marketing e comunicazione, web agency, aziende del settore agribusiness, ampliando la competenza digitale delle filiere del territorio. I percorsi sono aperti a giovani in stato di inattività, inoccupazione o disoccupazione, con titolo di studio di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale. Il termine per l'iscrizione è il 28 maggio. potrà essere inviata o una mail all'indirizzo cescot-confesercenti-toscana-nord.it oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del Cescot Toscana Nord che è a Pisa via Ponte Apiglieri numero 8 o infine via Fax al numero 050-50319. A partire dal 26 maggio e fino al 12 giugno sarà aperto un infopoint a massa per la distribuzione dell'attrezzatura per la raccolta differenziata domiciliare presso Villa Cuturi, via Le Vespucci numero 24. Riguarderà le utenze domestiche presenti in via Fenice, via Fiume, via Fosdinovo, via Gorizia, via Lodolina, via Lodolina sotto i Poggi, via Montegrappa, via Podenzana, via Pontremoli, via San Leonardo. L'infopoint sarà aperto dalle 9.30 alle 15.30 con orario continuato da lunedì al sabato. Il nuovo servizio di raccolta domiciliare prenderà avvio da lunedì 14 giugno. Alle famiglie residenti nei condomini all'infopoint verrà consegnato il kit agile mentre i bidoncini condominali saranno consegnati a domicilio. Il ritiro del kit all'infopoint deve essere effettuato dall'intestatario Tari portando con sé l'avviso di pagamento Tari in cui è riportato in alto a sinistra il codice soggetto Tari. Sarà modificata la circolazione veicolare lungo la strada provinciale numero 6 di Bergele nel comune di Massa fino al 31 maggio prossimo. Verrà infatti istituito un senso unico alternato all'altezza del chilometro 2 dalle 8 alle 13. Lo ha previsto un'ordinanza del settore tecnico della provincia di Massa Carrara che è stata adottata per consentire l'esecuzione di lavori di taglio delle piante pericolanti. E giovedì 27 maggio saranno effettuati lavori di manutenzione sull'impianto dell'acquedotto serventi le frazioni di arzelato, arzelato pietra piccata, arzelato di soglio, arzelato costa di soglio, arzelato castello, copizzana, careola, casa italiano e zone limitrofe del comune di Pontremoli. Dalle 8.30 alle 13.30 comunque sino al termine dei lavori potranno verificarsi i momenti di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile. E adesso vediamo insieme le previsioni del tempo per domani. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni meteo per martedì 25 maggio, nuvolosità variabile su tutto il territorio, temperature in calo, venti moderati e mare poco mosso. Venerdì 26 maggio, cielo sereno, temperature stazionarie, venti deboli e mare mosso. Tendenza nei giorni successivi, tempo ancora sereno, temperature stazionarie, venti moderati e mare mosso. Per aggiornamenti visitare il sito www.meteopuane.it Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Siamo in chiusura, non ci sono altri aggiornamenti, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e appuntamento a domani. Arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti.